Amici sportivi, un saluto da Federi Corragona, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi parliamo della finale pay-off che si giocherà andata e ritorno della Serie C, in finale Palermo e Patova. Andiamo a leggere il comunicato ufficiale della Lega con le date e orari che sono già stati stabiliti nella prima mattinata di oggi, lunedì 30 maggio. Le due società vincitrice, le care della fine finale, parteciperanno alla finale. La gara di andata è domenica 5 giugno, mentre la gara di ritorno si giocherà domenica 12 giugno, ore 21, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, mentre la gara di andata si giocherà in casa del Patova, sempre alle ore 21. Andiamo a vedere il regolamento modalità di sboggiamento. La finale per offre il campionato di Serie C21-22 sarà disputata in gare di andata e ritorno, alla conclusione delle due gare in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno per determinare la squadra in giugno si darà conto della differenza a rete. In caso di utore parità saranno disputati due tempi da tempo supplementare di 15 minuti. Pendurando la tale situazione saranno eseguiti i calci di rigore. Dunque, in poche parole, a differenza a rete eventuale ci saranno i tempi supplementari da 15 minuti e calci di rigore. Però l'unica cosa buona che Palermo giocherà in casa è il ritorno davanti al proprio pubblico. Ricordiamo che domenica 5 giugno la gara è andata, mentre il ritorno una settimana dopo al Renzo Barbera. Restate collegati sul nostro canale di YouTube per essere aggiornati sulla pre-vendita dei biglietti per la gara di andata e tutte le notizie per quanto riguarda il calcio siciliano.